Ben ritrovati con il telegiornale di Arezzo TV. Iniziamo parlando di questa violenta rissa che si è consumata a Camucia. Ci dice tutto Chiara Sadotti. Chiara Sadotti! Chiara Sadotti! I studenti del locale, forse sotto l'effetto di alcolici, hanno lanciato vassoi e sedie. Sono venuti a mangiare, hanno ordinato la roba, abbiamo portato la roba, dopo hanno buttato i vassoi e i patatini così cibo a terra e mio babbo è andato da lui e ha detto perché stai buttando questo casino. Uno di loro si alza e lo dà punio a mio babbo e inizia a litigare. E dopo avevo due ragazzi che lavorano qui e hanno iniziato a litigare con loro. Alla fine sette persone sono rimaste coinvolte nella rissa. I titolari hanno chiamato il 112 e due clienti si sono allontanati. Dopo un paio d'ore però sono tornati scatenando il putiferio sempre a suon di sedi e hanno danneggiato la porta d'ingresso e poi hanno aggredito una dipendente rompendogli due denti. Hanno bussato la porta, questo ragazzo non ha aperto la porta, lui presta la sedia da fuori e ha rotto questa porta, vetro. E ora abbiamo fatto la denuncia. Il tutto è stato immortalato in queste immagini girate da un residente che ha sentito le urla dalla finestra. Abbiamo subito messo in campo tutte le attenzioni del caso. Il nostro territorio, quindi Camuscia, tutto il territorio cortonese, è un territorio di legalità, di sicurezza e tale deve rimanere. Notte di ricerca in Valdarno per una persona scomparsa dopo circa 5 ore di battuta che ha coinvolto numerose persone e mezzi. La signora, una 85enne bucinese, è stata ritrovata in buona salute. Sul posto i vigili del fuoco del comando Aretino e una squadra anche di Montevarchi, unità cinofile e droni, i carabinieri della compagnia di San Giovanni Valdarno, i sanitari del 118, il soccorso alpino, la Croce Rossa e i volontari della protezione civile. Intorno alle 2 del mattino, la donna è stata ritrovata non lontano da casa con il drone dei vigili del fuoco dotato di termocamere. È stata poi affidata alle cure del personale sanitario. Un carico di bionde, ovviamente illegale, è stato intercettato dalla polstrada. Trasportavano 275 stecche di bionde rubate lungo l'autostrada del sole, ma sono stati scoperti e fermati dalla polizia stradale. Erano alle 8 del mattino quando gli agenti della sottosezione di battifolle in servizio di vigilanza autostradale si sono visti superare a forte velocità da due uomini a bordo di un Alfa Romeo Stelvio, direzione sud. È così nato un inseguimento e i poliziotti raggiunta l'auto hanno intimato l'alto al conducente che però, dopo aver rallentato, ha nuovamente accelerato per entrare infine con una brusca manovra all'interno dell'area di servizio di Monte Pulciano Ovest. A questo punto gli uomini a bordo dell'auto hanno tentato la fuga a piedi in direzioni opposte. Uno è riuscito a dileguarsi mentre l'altro, dopo un breve inseguimento, è stato bloccato dai poliziotti. Sull'auto erano stipate ben 275 stecche di sigarette dei marchi più venduti, frutto anche di un colpo in una tabaccheria della provincia di Udine messo a segno nei giorni precedenti. Il giovane bloccato, uno straniero di 20 anni, senza fissa dimora in Italia e sprovvisto di permesso di soggiorno, è stato sottoposto a fermo e condotto presso il carcere di Siena a disposizione dell'autorità giudiziaria. Sono attualmente in corso delle indagini finalizzate ad individuare la presenza delle altre sigarette rinvenute e l'identità del complice che è riuscito a fuggire. In situazioni sapere il più velocemente possibile dove si sta intervenendo è essenziale per i lavoratori da salvare e per gli stessi soccorritori. A sottolinearlo è il direttore regionale dei Vigili del Fuoco, con la memoria che va pochi giorni fa alla tragedia che ha visto morire in Sicilia cinque operai intossicati. e rimasti intrappolati proprio mentre lavoravano in una fogna. Per questo, proprio nelle scorse ore, ci sono state anche due giorni di esercitazioni nel territorio aretino. Due diverse esercitazioni, programmate fra il Comando dei Vigili del Fuoco di Arezzo e Nuove Acque, si sono svolte nei giorni scorsi in due impianti di Nuove Acque Accesa e Appoggio Cuculo. Si è trattato della simulazione di due interventi di soccorso. La prima, a Marciano della Chiana, dove il nucleo SAF ha simulato il recupero di una persona infortunata dalla sommità del serbatoio recuperandola con una barella su teleferica e l'altra con calata con corsetto e stirpatore. La seconda, presso il potabilizzatore di Nuove Acque e Appoggio Cuculo, qui è stato simulato il recupero di due vittime da un pozzo, una recuperata con dispositivi in dotazione al personale di Nuove Acque e l'altra con cavalletto cevedale e attrezzatura per il recupero di persone in luoghi confinati. Le due esercitazioni hanno avuto l'obiettivo principale di studiare e testare il miglior piano di intervento prendendo volutamente come modello due scenari complessi e inconsueti. Avrebbe dovuto laurearsi ad inizio dicembre discutendo una tesi sul tema della sicurezza traspusionale e alla memoria di Jacopo Sciabolini che l'Università degli Studi di Siena ha deciso di conferire la laurea. Un anno fa il 24enne, studente della Facoltà di Infermieristica presso il campus di Arezzo, è rimasto vittima di un incidente stradale verificato così lungo la provinciale 327 che collega Cesa con Foiano della Chiana. La pergamena è stata consegnata ai genitori. Torniamo adesso a parlare del cantiere di via Fabio Filzi. Oggi c'è quella che si può chiamare una buona notizia. È infatti iniziato lo svuotamento dell'acqua. A poche ore dalla scadenza della seconda proroga concessa dal comune di Arezzo sono iniziati i lavori di svuotamento nel cantiere di via Fabio Filzi ad Arezzo dove dovrebbe sorgere la nuova sede della Polizia Municipale ma che ultimamente si era riempito di acqua piovana e acqua di falda. L'ordinanza del sindaco imponeva la proprietà di ripristinare le condizioni di sicurezza. Sul caso era intervenuta anche l'ASL e il comitato di cittadini ha presentato ben due esposti. La proroga era stata concessa per consentire specifiche analisi prima di poter scaricare i liquidi nella fognatura pubblica come in effetti oggi l'azienda incaricata ha fatto. Quella di oggi è indubbiamente una buona notizia almeno sotto il profilo della salute e della tutela delle abitazioni adiecenti ma la preoccupazione resta. I rifiuti che sono prospicenti l'immobile dovranno essere rimossi e i residenti chiedono a gran voce il ripristino anche dei parcheggi. Ci sono poi le frequentazioni di chi lo usa come dormitorio segnalano ormai da tempo i residenti per spacciare o per consumare droga. Insomma la pace per questa zona della città sembra essere ancora molto lontana. Da una zona all'altra della città davvero si moltiplicano i comitati. Adesso parliamo invece di via Acuto. Siamo nella zona pescaiola ad Arezzo. Domani ci sarà un sit-in di protesta. Dalle 10 e 15 in poi alcuni cittadini si ritroveranno appunto per protestare nei confronti dell'amministrazione comunale per aver rimandato da oltre due anni dicono in un comunicato il completamento e l'apertura del parco di via Acuto. I lavori sembrano essere terminati scrivono ancora i cittadini da tempo ma è tuttora precluso l'accesso. E ancora ci spostiamo a Saione dove sappiamo è molto vivace il dibattito ma soprattutto anche in questo caso la levata di scudi per proteggere gli alberi che si trovano appunto in quella piazza e che dovranno essere per forza di cose rimossi poi dice l'amministrazione probabilmente di nuovo piantumati per via appunto del progetto di riqualificazione della stessa piazza. Nelle scorse ore l'incontro proprio con il comitato e l'amministrazione comunale. Sentiamo allora com'è andata. È una proposta che prevede, secondo le loro parole, lo spostamento degli alberi di pochi metri. Loro piuttosto che lasciarli lì dove sono, in un posto dove sono comunque salvaguardati perché l'aiuola è rialzata e dopo 20 anni non c'è mai stato un danno, non sono mai stati danneggiati, loro propongono di toglierli e spiantarli per piantarli pochi metri più a destra. Questa è un'operazione secondo noi irragionevole. Non verranno abbattuti ma saranno espiantati e riposizionati. Così però gli alberi di Saione, secondo il comitato cittadino, andranno incontro a morte certa. L'amministrazione comunale ha incontrato i residenti che hanno già raccolto 1500 firme per aprire un dialogo sul progetto di rifacimento della piazza che prevedeva inizialmente l'eliminazione delle 11 piante ad alto fusto che si trovano all'interno dell'aiuola rialzata, ma la nuova proposta non convince comunque i residenti. Si sa che gli alberi, o in generale le piante, nel periodo vegetativo che va da primavera all'autunno, toccandole, trapiantandole, sono destinate a morte sicura. Notizie positive invece a seguito dell'incontro potrebbero arrivare sul nodo viabilità. In via Guelfa non ci dovrebbero essere modifichi al senso di marcia. Diciamo l'unico punto sul quale ci siamo trovati d'accordo, il senso di marcia rimarrà tale come adesso, cioè da via Vittorio Veneto si inserirà verso la chiesa e proseguirà dietro, che è una cosa anche di buon senso in quanto sarebbe stata comunque una situazione molto critica. Poi nessuna pista ciclabile ma il miglioramento del marciapiede. Noi siamo favorevolissimi alle piste ciclabili. In questo caso, proprio per poter discutere, e come ha detto anche l'assessore Casi, potrebbe essere fatta una pista ciclopedonale, come c'è in Via Crispi, che è una soluzione che può mettere insieme le esigenze. Del resto, Saione con dei pezzettini di piste ciclabili ogni qualche metro non garantisce comunque la sicurezza dei ciclisti. Per il prossimo 16 maggio è in programma un consiglio comunale aperto sul tema. Tutto pronto per l'edizione 2024 di Oro Arezzo, che apre i battenti domani, sabato 11 maggio, e poi andrà avanti fino al 14. C'è ovviamente grande attesa nel settore, intanto il dato, gli espositori sono in aumento. Si apre ovviamente con gli occhi puntati sulle quotazioni dell'oro la 43esima edizione di Oro Arezzo, organizzata dalla società fieristica IEG e in programma dall'11 al 14 maggio all'Arezzo Fiere Congressi. Saranno presenti oltre 370 brand espositori, in aumento rispetto all'edizione 2023, quando erano 350. 240 sono aziende di oreficeria e gioielleria, semilavorati e componenti, pietre preziose e semipreziose, 63 produttori di macchine per il settore orafo e 48 venditori sul pronto, il cosiddetto cash and carry. Arezzo domina il fronte espositivo con più di 120 brand che espongono le proprie collezioni. I buyer esteri, ospitati ed altamente profilati, sono circa 400 provenienti da 60 paesi, erano 55 nel 2023. Il rapporto è dunque di oltre un buyer ospitato per azienda. Oro Arezzo sarà anche la vetrina delle creazioni, in concorso alla 33esima edizione di premier, aperto agli studenti delle scuole ORAFE con la categoria Talents. Il distretto ORAFE aretino è reduce da un 2023 brillante che ha visto l'export sfiorare i 3,5 miliardi di euro con una crescita del 9,4%. I mercati principali di destinazione della manifattura aretina sono per volumi Turchia, Emirati Arabi, Stati Uniti, Hong Kong e Francia. Anche lo scenario nazionale vede continuare il trend positivo di settore. E parliamo adesso invece di elezioni amministrative per tutta la giornata di oggi. Si chiuderà poi domani alle 12. Era possibile presentare, termine ultimo ovviamente, le liste per le prossime elezioni amministrative che come sappiamo si terranno l'8 e il 9 di giugno. Nell'Aretino sono 26 i comuni che andranno al voto per rinnovare sindaco e consiglio comunale. Tra le sfide più attese c'è indubbiamente quella nel comune di Castiglion Fiorentino, uno dei comuni che essendo sotto i 15 mila abitanti dava la possibilità al sindaco uscente, in questo caso Mario Agnelli, di ripresentarsi come poi ha fatto per portare a casa, insomma, vedremo poi come andrà il terzo mandato. Il suo sfidante è l'ex sindaco di Castiglion Fiorentino Paolo Brandi. E proprio sotto le nostre telecamere, con la conduzione di Sergio Rossi, si è svolto il loro primo confronto televisivo che andrà in onda questa sera, subito dopo il nostro telegiornale. Ve ne diamo un piccolo assaggio. Intanto non è vero che Mario Agnelli è quello che ha fatto uscire il comune dal dissesto, cominciamo a dire questo. Nel senso che nella sua legislatura nel 2016 è stata decretata la fine del dissesto, ma tutte le delibere, tutti gli atti amministrativi che hanno consentito al comune di uscire dalle difficoltà finanziarie erano stati fatti tutti in precedenza. Diciamo che lui si è limitato ad apporre la firma. Dopodiché è vero che c'è stata questa vicenda, che è stata una vicenda dolorosissima da molti punti di vista. Peraltro non c'è soltanto la questione penale. Io ho avuto anche, come dire, una soluzione di natura amministrativa. Per cui questo a dimostrare che in qualche modo le responsabilità di coloro che avevano amministrato il comune negli anni che vanno dal 2001 al 2011 non esistevano. Quindi da questo punto di vista qui è chiaro che io mi sento, come dire, tranquillo. Esiste una responsabilità politica sulla quale io credo occorre aprire un confronto con i cittadini, di far comprendere qual è stata la realtà dei fatti, la realtà delle cifre e soprattutto smentire una volta per tutte un fatto. E cioè che Castiglione Fiorentino fosse ridotto dieci anni fa, su questo devo dire che Mario un pochino ci ha giocato, ma dal suo punto di vista ha fatto bene, fosse ridotto un po' come è ridotta oggi Gaza dopo i bombardamenti israeliani. Non era così. Io intanto credo che ogni sentenza si rispetta, non si commenta, quindi io non mi metto a dare un giudizio né dal punto di vista penale né dal punto di vista amministrativo su una sentenza che ha permesso a Paolo Brandi di candidarsi perché ne ha facoltà evidentemente. Ora, che il periodo 2011-2016 sia stata una passeggiata di salute, però questa qui lo respingo subito, dal 2014 oltre ad avere un interno del Comune con l'organo straordinario di liquidazione e ispettore del Ministero, avevamo anche la Guardia di Finanza che faceva tutti gli accertamenti, un clima veramente brutto all'interno della macchina amministrativa. E io già ho sentito parlare di tutto in questa campagna elettorale, eccoci al primo confronto, io credo che siamo di fronte a due sindaci, io sono in carica, Paolo Brandi lo è stato, quindi ho il vantaggio di parlare con uno che non sa che cos'è l'amministrazione. Paolo Brandi sa perfettamente che cos'è l'amministrazione comunale, per aver fatto il sindaco dieci anni e il vice sindaco altri otto. E credo che quando si parla di limitazioni, io il periodo che ho trascorso dal 2014 al 2016 lo descrivo come una sorta di safety car davanti, che non ti consente di operare in piena autonomia, ma di dare risposte cosiddette sui servizi essenziali ai cittadini. E questo è durato tre anni. E allora non mancate questa sera alle 21, la nostra piazza speciale amministrativa con il confronto appunto tra i due contendenti per la poltrona di sindaco, quindi Mario Agnelli il sindaco uscente e Paolo Brandi ex sindaco dello stesso comune, quello di Castiglion Fiorentino. Tutto pronto per la settantesima edizione del mercatino dei ragazzi del Calcit, che si terrà domenica prossima 12 maggio nel centro città, tra l'altro una giornata che coincide con la festa della mamma. Sono 250 i banchi, sono attesi oltre 450 bambini e bambine, accompagnati ovviamente da genitori e nonni. Saranno presenti tra gli altri la sezione orafi dell'ISIS, il liceo scientifico Francesco Redi, la scuola Buonarroti e Fossombroni, il gruppo Donne Rossoverdi, il gruppo Donne Porta del Foro, il gruppo Aspettando il Mercatino, Santa Firmina, i collaboratori di Ponticino, il gruppo Mani e Cuore per il Calcit, il gruppo Femminile del Calcit, e poi ancora la FIAB Oasi Pesca Gigante del Calcit, il Banco dei Libri, il Banco dei Piccoli Chef e ancora Sei Toscana e il Punto Baby Pit Stop della Misericordia. Quindi tante associazioni del nostro territorio. Nel pomeriggio poi dalle 16 ci sarà anche la presenza presso il Punto Ristoro dei Ragazzi del Mercatino in Concerto. Il ricavato, come sempre, sarà destinato al sostenimento del Servizio di Cure Domiciliari Oncologiche Scudo, ovviamente portato avanti dal Calcit. Sarà un incontro dedicato alla poesia ucraina, l'appuntamento che si terrà lunedì prossimo, 13 maggio, alle 12, al campus universitario di Ariz, una lezione, un reading proprio in lingua ucraina, con traduzione in italiano, alla presenza di due poetesse. Parteciperanno anche alcuni studenti e studentesse del corso di laurea magistrale in lingue per l'impresa. La presentazione che si terrà all'interno del corso di lingua e cultura ucraina di una professoressa appunto ucraina è aperta al pubblico. Sarà dedicata allo storico presidente Massimo Casini, padre anche del sindaco di Lucignano Roberta, recentemente scomparso, la edizione numero 85 della maggiorata lucignanese che è stata presentata proprio in queste ultime ore. Un'edizione molto ricca da questo punto di vista perché abbiamo voluto implementare quello che era un po' il canone della nostra manifestazione. Il 19, il 21 e il 26 sono le date delle sfilate, dei carri allegorici, naturalmente anche dei gruppi e delle bande che sfileranno lungo le strade del paese. Però è anche vero che questa edizione si caratterizza per altri momenti molto particolari. Non ultimo, questa mostra antologica con fotografie, documenti, testimonianze davvero pregevoli di 85 edizioni della maggiorata. Credo che sia un evento particolarmente apprezzato e profondamente vissuto, partecipato dalla gente di Lucignano che è legatissima alla nostra manifestazione. Il tema che è stato scelto lo scorso anno dal carro tra l'altro che ha vinto il rione di Via dell'Amore è i generi musicali. E quindi i quattro rioni, il rione di Via dell'Amore, il rione di Porta Murata, il rione di Porta San Giusto e quello di Porta San Giovanni si sfidano intorno a un tema come questo che certamente sono convinto scatenerà la fantasia, la versatilità, la voglia di stupire dei popoli dei quattro rioni. Guinsaglio alla mano, scarpe comode e soprattutto la compagnia del nostro amico a quattro zampe. Ora Baula, passeggiata organizzata da Officina Rilancio Arezzo, è in programma per domenica 11 giugno. Partirà dal Parco del Prato un appuntamento alle 9.30. Da lì i partecipanti e i loro fidati amici a quattro zampe si muoveranno lungo Via Le Buozzi per poi raggiungere il Parco di Villa Severi, proseguire poi per Via Laffaello Sanzio e terminare la camminata al Parco Giotto. Ed infine torniamo a parlare per quello che riguarda la pagina sportiva, anche se non sono diciamo vicende, in questo caso prettamente sportiva, ma più che altro societarie, dell'interruzione del rapporto tra Paolo Giovannini, in qualità di direttore generale, e l'Arezzo. Come sappiamo la notizia è stata diffusa nell'escorsione con una nota ufficiale firmata proprio dalla società, ma anche dallo stesso manager. Ultimamente invece è stata diffusa una nota da parte di Orgoglio Amaranto, che come sappiamo fa parte del capitale sociale dell'Arezzo. Abbiamo avuto un incontro, scrivono nella nota, con il presidente Guglielmo Manzo, che ci ha informato circa la propria volontà di interrompere il rapporto, appunto che legava il direttore generale Paolo Giovannini al Sodalizio Amaranto. Una decisione ci è stata spiegata, presa di comune accordo e dettata dal venir meno del rapporto fiduciario e delle prospettive divergenti tra la proprietà e il manager. Orgoglio Amaranto, ringrazia poi ovviamente Paolo Giovannini per i risultati raggiunti e lo sforzo profuso fino al momento in cui era in forza all'Arezzo. E poi il comunicato si conclude dicendo che il comitato ha chiesto ovviamente al presidente garanzie circa l'impegno della proprietà verso il cosiddetto progetto Arezzo ricevendo ampie conferme. È tutto per questa edizione del nostro telegiornale. Io vi lascio con la nostra piazza speciale elezioni e dunque il confronto davvero da non perdere tra i due contendenti per la carica di sindaco per le prossime elezioni amministrative dell'8 e 9 di giugno nel comune di Castiglion Fiorentino quindi Mario Agnelli sindaco uscente e Paolo Brandi ex sindaco. Grazie per l'ascolto e arrivederci.